Loro sono le ginnaste della Gymni Cantea che si sono già qualificate di diritto per la fase nazionale del campionato individuale gold di specialità essendosi classificate tutte quante prime alla fase regionale e sono Diletta Spinosa, Francesca Bellicano, Maica San Vitale e Agatara Bottini e lei la tecnica Giada Orlandi. Allora ne approfitto per chiederà Giada come è stata l'organizzazione di questa gara e come sta andando questo campionato? Sì allora stiamo organizzando da circa una settimana, per il momento l'organizzazione sta andando tutto bene e noi ovviamente stiamo lavorando con le ginnaste alla preparazione dei campionati italiani e ovviamente ci siamo già qualificate precedentemente durante la fase regionale perché tutte le ragazze sono arrivate prime ad entrambe gli attrezzi e speriamo bene, facciamo un in bocca al lupo a tutte le ragazze che parteciperanno e incrociamo le dita. E voi siete contenti di esservi già qualificate? Vai! Molto! E a nome di tutte siamo molto contenti e siamo pronte per provare a vincere anche il campionato italiano.